Quest'anno abbiamo avuto i primi sei mesi dell'anno dove la regolarità del servizio ferroviario in Toscana era migliorato rispetto allo scorso anno, raggiungendo delle importanti percentuali di performance. Siamo sopra al 92, 92,5%. Poi purtroppo siamo incappati in questo mese di luglio, che definirei orribile per quanto riguarda il traffico regionale dei nostri treni, ci sono stati molti disagi, soprattutto legati al malfunzionamento dell'area condizionale. Abbiamo cercato di fare le pressioni massime su Trenitalia perché risolvesse il problema, hanno messo anche impegno, ma ho visto che la situazione non ha avuto quegli esiti di miglioramento e di soluzione del problema che noi auspicavamo. Per questo abbiamo ritenuto opportuno venire incontro alle richieste che sono state fatte da molti pendolari di accordare un bonus straordinario proprio legato al disagio che è stato provocato relativamente al malfunzionamento dell'area condizionale. Ho coinvolto Trenitalia in questo riconoscimento, Trenitalia ha dato la disponibilità al pagamento del 50% del costo del bonus, questo ovviamente non esonera Trenitalia dal pagamento delle penali che saranno rigorosamente applicate. Ovviamente l'auspicio per quanto riguarda il futuro è che si risolva definitivamente questo problema sul quale Trenitalia sta lavorando, che non è il solo perché ce ne sono anche altri legati al funzionamento della linea e così via. Però noi speriamo di non dover ripagare bonus straordinari, ma non tanto per il costo, per l'onerosità che dobbiamo sopportare, ma perché vorremmo e per questo stiamo lavorando che non ci sia bisogno di riconoscere dei compensi rispetto al disagio subito. Per questo luglio non è stato possibile avere un servizio regolare, un servizio soddisfacente e quindi pensiamo che andare incontro in questo modo a quello che è il disagio che è stato sopportato sia un po' il minimo al quale noi ci dobbiamo sottoporre, ovviamente facendo in modo che Trenitalia per il futuro non ci sottoponga più a questi eventuali riconoscimenti straordinari.